Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale sul punto. Cerchiamo di fare un punto sugli eventi di questi successi in questi 15 giorni. Diciamo che le cose, se una volta erano abbastanza statiche come eventi, ultimamente si stanno accavallando, la politica ha preso un'accelerazione nelle cose da fare, soprattutto incalzata dalla crisi economica che ci sta sotto e quindi anche gli stessi borghesi è il tentativo di mettere rimedio a questa crisi, a questa produzione di massa che fa il sistema attuale, il sistema capitalistico, che non ha un piano di produzione in armonia con l'ambiente e i bisogni della specie. Ecco, quello che dirò è la critica a quello che sta succedendo, principalmente politicamente, adesso al reddito di cittadinanza e alle pensioni, premetto che io non ce l'ho né con il Movimento 5 Stelle né per quanto riguarda la Lega. Sono cose, non sono filo da una parte o dall'altra, non me ne frega assolutamente niente. Questi due partiti sono due partiti che tentano di portare un rimedio alla cancrena, alle contraddizioni di questo sistema. Loro, quello che pongono è sempre nel rimanere all'interno dei parametri che dà un sistema di produzione capitalistica. Io proprio il sistema di produzione capitalistica lo vorrei abbattere, per cui non me ne frega assolutamente niente di patteggiare per PD, che poi è la stessa cosa, modificato un po', o Lega, Movimento 5 Stelle, sono cose che non mi interessano. Lo dico perché ho visto sui social che quando tocchi questi argomenti del reddito di cittadinanza o le pensioni, subito c'è un fermento, la gente si scaglia o contro uno o contro l'altro. Questo fermento è dato anche dal fatto che socialmente il cervello sociale ha visto in queste due formazioni la possibilità di tentare di risolvere un po' i disagi che vive, penalizzando quello che era prima il PD accusandolo di essere causa di questo sistema, è il fattore di questo disastro. Il PD e anche lui, come tutti, come il 5 Stelle e come la Lega, stanno tentando di rattoppare questo sistema. Per cui quando ci dicono nei social guardate cosa hanno fatto i governi prima, la storia non inizia da marzo quando hanno vinto le elezioni dei partiti borghesi e prima no. La storia è un film che inizia da un determinato momento e continua fino, in questo caso, la produzione di un sistema di produzione finché non cadrà, io spero, più presto possibile e miseramente. Per cui, se qualcuno mi criticherà, non mettetela su questo piano, non me ne frega assolutamente niente. Cerchiamo di metterla su un piano politico, storico e soprattutto economico, sono basi oggettive. Quindi, la discussione che si è improntata ultimamente sul reddito di base, va ricordato, non è partita dal Movimento 5 Stelle, è partita negli anni 80 in Belgio da parte del collettivo Charles de Fourier, che ha istituito la rete europea del reddito di base, cioè Basic Income Europe Network, che poi è diventato un network mondiale, si chiamava Basic Income Earth Network, cioè Terra, con svariate decine di reti nazionali e regionali. Ecco l'importanza, per esempio, della rete. Per un paio di decenni, il Basic Incoming è rimasto appannaggio degli addetti ai lavori e di alcuni movimenti di sinistra, ma da qualche anno la questione esplosa a livello globale. Ne parlano i democratici USA, i sindacalisti sudafricani, americani, inglesi, olandesi e i movimenti dei precari europei, eccetera. Quindi ne parlano un po' tutti. E molti sono i paesi che stanno sperimentando forme di reddito di base. In Alaska, in Finlandia, in Olanda, in Anibarca. Eppure ci sono singole città come Stockton in California. Tutto va di pari passo però con incalzare del fenomeno dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Siccome la produttività è altissima e bastano pochi operai a produrre tutto il plusvalore necessario alla società, questa deve provvedere in qualche modo alla sua sovrappopolazione relativa e assoluta, con lavori fasulli o con ammortizzatori sociali, in modo che non scoppino rivolte. Ma guai, e qui mi rifaccio un attimo a Carlo Marx nel manifesto del 48, che dice guai a quella società che invece di sfruttare i suoi schiavi dovesse giungere a mantenerli soltanto. E questa è la prima introduzione. Andiamo nel dettaglio. In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano del 30 settembre viene specificato come sarà erogato il contributo, cioè sotto forma a questo contributo del reddito di cittadinanza sarà conosciuto a una carta acquisti che i beneficiari potranno utilizzare solo per procurarsi beni di prima necessità, alimenti o medicinali. La dotazione, quindi quanto metta a disposizione il documento di economia e finanza per l'applicazione di questi 10 miliardi, quanti sono? Sono 10 miliardi, 9 per il reddito di cittadinanza e 1 per sistemare i centri per l'impiego. I beneficiari di questo reddito di cittadinanza dovrebbero essere circa 6 milioni e mezzo di italiani. Allora, io ho fatto un po' il conto della serva. 9 miliardi diviso 6,5 milioni che dovrebbero essere i beneficiari fanno 1.385 euro l'anno, diviso 12 vengono i 115 euro al mese, quindi non sono già 780. Comunque i 780, diamo per buono questo dato, vanno a chi parte da un reddito pari a zero, mentre per gli altri ci sarà solo un'integrazione. L'esempio era questo, se tu sei proprietario di una casa che non paghi l'affitto, la casa viene considerata di 400 euro, quindi tu prendi la differenza tra i 400 euro e i 780 euro. Il vice ministro dell'economia ed esponente delle 5 stelle Laura Castelli il 30 settembre sul Fatto Quotidiano, adesso vi do anche il link, così la regia, per chi non l'avesse mai letto, ma ne hanno parlato molto i giornali e quindi non dovrebbe essere difficile ricepirlo, ma vi do il link che la regia metterà a piede del mio intervento e dice, quindi la Castelli dice, sarà il Bancomat, il Perno, Bancomat, ma poi adesso si parla pure della carta sanitaria, ma non è questo l'importante. Il funzionamento del reddito di cidenza è sul Fatto Quotidiano la Castelli che premette. Il progetto lo stiamo definendo, l'intervista è del 30 settembre, quindi di 15 giorni fa. Il progetto, riprendo le sue parole, lo stiamo definendo assieme al team per la trasformazione digitale di Diego Piacentini e alla Banca Mondiale. Ogni cittadino che ha diritto al reddito potrà adoperare la propria tessera Bancomat e recarsi in un negozio. Poniamo che debba comprare il pane. Gli basterà dare il Bancomat al fornaio che riconoscerà il codice della tesserina tramite un apposito software e scalerà la cifra dell'acquisto. Non ci sarà alcuno scambio di denaro. Il negoziante avrà dallo Stato in giornata la cifra spesa dal singolo cittadino, come già avviene ora con i normali acquisti. E le banche di acquirente e venditore non avranno visionato nulla, anche perché quindi si salta il circuito bancario perché le banche non fanno più tramite. Quindi la domanda e la tempistica alla fine le tecnologie per i pagamenti sono già tutte disponibili mentre ci vorranno alcune settimane per incrociare le banche dati di IMSS, centri per l'impiego, comuni e centri di formazione. Questo è il metodo diverso della Social Card. Nessuno avrà paura di sentirci ghettizzato usando una carta riconoscibile perché potrà adoperare il suo consueto tesserino Bancomat. Ma un dato importante è che questi soldi non sono cumulabili, cioè non li puoi dire risparmio questi soldi per poi fare un acquisto che superi, diamo per buono questi 750 euro, ma l'idea è far crescere del 4% il reddito di cittadinanza ogni qualvolta il beneficiario ne utilizzi per gli acquisti tracciabili almeno il 75 e l'80%, oppure decurtare del 4% la somma erogata a chi ne spenda meno del 75%. Quindi non è cumulabile, se tu da un'altra parte non li spendi ti verranno decurtati questi soldi. È interessante che questo è qualcosa di simile ai buoni lavoro di John Gray. Chi è questo John Gray? John Gray è un economista che vive ai tempi di Marx, che era quindi questi buoni lavoro, un denaro tracciabile, ma completamente diverso rispetto all'etico reddito di cittadinanza, dove prima ti avevano i soldi poi tu li potevi spendere dove e quando volevi. Nel disegno originario dell'economista britannico criticato da Marx, gli individui producevano merci, ma le depositavano presso una banca che documentava il tempo di lavoro consumato nella loro produzione. Marx, nella critica al programma di Gotha, affronta il problema della contabilità nella fase di passaggio al comunismo, quindi siamo di fronte a un lascito nella società capitalistica, della società madre, quindi si passa dal capitalismo e nella fase di transizione, cioè dal socialismo al comunismo. E quindi ci sono tare e dei tari che vanno eliminate. Quindi cosa fa? All'individuo spetta una quantità di beni equivalente alla quantità di lavoro erogato. detratto quanto serve alle necessità sociali. In questa fase, prosegue Marx sul critica al programma di Gotha, il lavoratore riceve dalla società uno scontrino di cui risulta che egli ha prestato tanto lavoro e con esso ritira dal fondo sociale tanti mezzi di consumo quanto equivale a un lavoro corrispondente. la stessa quantità di lavoro che egli ha dato alla società in una forma la riceve in un'altra. Non è certamente comunismo, c'è ancora scambio tra equivalenti tramite il valore. Però voi pensateci un po' a questa schedina dove il valore non esiste più, la quantità del valore non esiste più, non si riesce più a capire. Il ticket di cittadinanza non è riconosciuto da nessuna banca, abbiamo visto prima. Non è cumulabile né spendibile all'infuori del circuito italiano. È piuttosto un ibrido. Si tratta infatti di denaro emesso e garantito dallo Stato e destinato non rientrando nel circuito economico unicamente al consumo. Il denaro serve per far circolare le merci. questo non circolano, non rientrano nel circuito economico, è destinato soltanto al consumo. Se una manovra dà importo, questo è denaro programmato. Finirà per assecondare la propensione marginale al consumo, perché la gente non potrà che spendere quello e vengono anche determinati i consumi che la gente può fare, quindi i consumi di beni di prima necessità, eccetera, come è successo, per esempio, già successo in Portogallo tempo fa. E a proposito di buoni, di Orwen, Orwen era un socialista utopistico, anche lui fece questo tentativo con i buoni lavoro, Marx affermava che non può esistere in ambito capitalistico, e qui siamo in ambito capitalistico, un buono lavoro puro e semplice, ma ci deve essere sempre un equivalente del denaro. Nel caso italiano è lo Stato che si occupa direttamente di allargire certe cifre per innescare cicli virtuosi dell'economia. Convongendo l'intera società si sta facendo strada un denaro personalizzato a seconda degli individui come afferma Neil Gashfend in quanto le cose iniziano a pensare. I bit che rappresentano il denaro dovrebbero essere accompagnati da bit che rappresentano gli algoritmi necessari a stabilire il valore. È un denaro immateriale con incorporato un codice attraverso il quale esercitare un controllo su di esso. Per forza di cose la borghesia è costretta a mettere in atto misure che salvaguardino il capitale. Ma c'è una differenza enorme tra un provvedimento preso dalla borghesia quindi i borghesi di 5 Stelle e di Salvini e uno adottato da un organismo rivoluzionario in fase di transizione di passaggio tra capitalismo e comunismo. Nel primo caso cioè nel caso di anche questo di Salvini e di 5 Stelle esiste ancora il denaro e mercato i cittadini sono al servizio dello Stato cioè i cittadini gli vengono dati dallo Stato dei soldi perché loro con il loro consumo mettano in siano volano per il consumo. Nel secondo cioè dove ci sia una società diversa in una situazione in cui il potere si è in mano al proletariato lo diciamo chiaro attraverso il suo partito è lo Stato a mettersi a servizio dei cittadini. Siccome l'attuale modo di produzione non riesce più a migliorarsi ciò che si sviluppa è la forza della società futura indipendentemente dall'uso che il capitalismo ne fa. Tutto ciò prepara una rivoluzione che non avrà nulla a che fare con quelle che l'hanno preceduto non sostituirà una classe al potere con un'altra non distribuirà reddito a milioni di schiavi eliminerà tutte le classi stiamo dunque andando verso una catastrofe sistemica e di questo ne dobbiamo avere ben presente le considerazioni di proporzioni difficili da immaginare già procedura però è già preceduta però da molte avvisaglie questo questo catastrofi altro esempio il quantitative easing lanciato dalle banche centrali USA Europa e Giappone è stato presentato come un intervento temporaneo è durato diversi anni arrivando a quasi 15 mila miliardi di dollari inseriti nel circuito di circolazione del capitale il fatto è che convogliare cifre del genere nei forzieri degli istituti di credito rientra nella normalità delle operazioni finanziarie mentre distribuirle nelle mani dei cittadini potrebbe innescare paradossi inaccettabili per il capitalismo nel film Too Big To File il segretario del tesoro americano Paul Song si chiese dubbioso se dare i soldi alle banche sia stata una buona mossa e se sarà ripartita l'economia a dieci anni dal crack cioè dal crollo del 2008 la risposta la possiamo vedere tutti quanti sta di fatto però che dal 2007 il settore economico prendiamo il settore dell'auto è alle prese col crollo di immatricolazioni in Italia le vendite delle automobili sono calate del 25 e 3% in generale nei paesi occidentali si acquistano sempre meno veicoli mentre in quelli di nuova industrializzazione le vendite aumentano soprattutto in India Cina Giappone l'auto è sempre stato un moltiplicatore delle energie capitalistiche e perdere questo settore vitale vero e proprio sistema che va dall'acciaio all'immenso indotto vuol dire per il sistema di produzione capitalistico la catastrofe e per quanto riguarda per esempio i debiti accumulati in questa società prima parlavo dell'inesco di migliaia di miliardi delle banche centrali del Giappone degli USA e anche della BCE per dare vitalità a questo sistema ormai in putrefazione non abbiamo visivamente nemmeno quant'è il debito si parla di debito allora facciamo un esempio banale prendiamo delle banconote nuove da 50 euro ciascuna dello spessore di un decimo di millimetro allora siccome il debito si parla di trilioni di dollari mettiamo i dollari e gli euro equivalenti anche se l'euro vale pochi centesimi di più del dollaro ma facciamo per dare una immagine a chi ci ascolta allora bisogna impilare due metri di banconote cioè queste banconote da 50 euro dallo spessore di un decimo di millimetro due metri di banconote nuove per fare un milione di euro due chilometri di altezza per fare un miliardo immaginate due chilometri di altezza di banconote a 50 euro 2000 chilometri cioè due volte Torino Bari per fare un trilione di euro l'Italia ha un debito di due trilioni di euro quattro volte Torino Bari immaginatevi un'autostrada a quattro corsie di banconote di 50 euro ognuna dello spessore di queste banconote come dicevo prima di un decimo di millimetro quindi immaginatevi no questa è la queste sono le proporzioni capite che quando partirà di nuovo perché dovrà partire scoprirà questa bolla finanziaria che che scoppi ci saranno è una cosa è una cosa spaventosa vorrei chiudere visto che ho pochi minuti quindi è interessante vedere come il sistema di produzione capitalista attraverso i suoi agenti i suoi funzionari insomma Salvini Di Maio sono funzionari del capitale cercano di salvarlo dalla catastrofe che si sta che il capitalismo si sta costruendo perché vive delle sue contraddizioni una nota che non se ne parla tanto è quella perché per salvarsi il capitale distrugge distrugge la specie umana attraverso inquinamento distrugge territorio e l'altro giorno sulla Nuova Venezia di sabato 13 ottobre è apparsa una notizia che stiamo distruggendo sempre più territorio cioè sempre meno territorio rimane per la produzione fondamentale quello del mangiare dicono che il Veneto con il 12,4% del suolo regionale occupato da edifici produttivi residenziali rappresenta la seconda regione d'Italia per il consumo di suolo dopo la Lombardia ma anche qui non è omogenea la cosa perché queste percentuali variano dal 13 e 3% del Vicentino al 19% della provincia di Padova secondo le fonti catastali lo stock di capannoni nel Veneto ammonterebbe a 91.846 unità di questi ben 10.610 risulterebbero dismessi quindi pensate quanto territorio no e questi sono stati costruiti soprattutto prima della crisi del 2008 sono stati costruiti tra il 2001 e 2009 pensate per dare fiato a questa economia a questi soldi pubblici che sono stati incentivati dalla regione soprattutto Veneto la costruzione di capannoni c'era ancora il presidente Galan che poi è andato sull'inchiesta eccetera comunque soldi pubblici per distruggere la natura e l'ambiente adesso questi capannoni dismessi si parla di recuperarli quindi recuperare ancora attraverso soldi pubblici quindi attraverso le tasse di tutti perché le aziende comunque vengono gli vengono dati incentivi perché facciano questi lavori gli vengono dati delle agevolazioni fiscali perché assumino persone vengono dati del pagano meno tasse perché rinvestino il loro capitale ma tutti questi soldi che gli vengono abbonati alle aziende le devono o sono meno servizi lo Stato erogano meno servizi ai cittadini o ci aumentano le tasse a noi se quelli sono i soldi che devono entrare e per cosa per distruggere l'ambiente per mantenere in vita un sistema che ormai è alla catastrofe bisognerebbe un po' riflettere su queste cose vale la pena continuare in questo modo una domanda che lascio che ognuno dia una propria risposta sono arrivato alla conclusione anche questa volta saluto tutti e ci vediamo fra 15 giorni ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti